Ciao a tutti, oggi mi trovo presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, quindi come potete ben immaginare, come avevo anche anticipato, una situazione alquanto atipica per registrare un video perché, visti comunque gli impegni di questa settimana legati sia alla conclusione del mio lavoro in solitare che uscirà nella primavera del 2024 e sia lavorando a stretto giro e quindi molto duramente ma con il giusto impegno con l'amico autore Mauro Biglino per il nostro libro in comune, ecco non ho potuto registrare comunque il video nella mia solita location, potremmo dire così, e quindi ho voluto approfittare anche di questa piccola pausa oggi per scambiare con voi qualche considerazione in merito alla questione delle persecuzioni che ancora oggi, visto anche ciò che sta accadendo nel mondo, senza riferirmi però a eventi specifici e un discorso ovviamente in linea molto generale, la questione delle persecuzioni passate, presenti e anche magari future vengono utilizzate anche a motivo propagandistico e politico. E quindi ho voluto veramente pensare a questa cosa in riferimento alle persecuzioni dei cristiani, perché noi ancora oggi se pensiamo per esempio alle persecuzioni e i danni dei cristiani le immaginiamo in un certo modo, secondo quella che la tradizione stessa ci ha insegnato. I cristiani sono stati quindi sabotati e perseguitati ingiustamente perché loro volevano semplicemente tributare il loro culto al loro personale Dio ma i romani non gli hanno mai permesso una serie, una sequela di persecuzioni lunga, addirittura secoli. Ma è davvero così? Prima di parlare proprio di persecuzioni specifiche, anche riferimento a un video, anzi scusate, a un libro di un importante studioso e autore, volevo fare prima un piccolo escurso storico, perché tradizionalmente la tradizione per l'appunto cristiana rivendica all'inizio di queste persecuzioni dall'imperatore Nerone, quindi con quel incredibile anche in fausto incendio avvenuto a Roma. Anche una certa filmografia specifica che ci ha anche insegnato un pochino, ci ha mostrato e ci ha fissato nel nostro immaginario collettivo quel Nerone impazzito, folle che addirittura suona, declama e si mette a poetare di fronte alla Roma in fiamme. Basti pensare un pochino al Colossal di Quovadis. In realtà, come abbiamo anche visto nel video specifico proprio dell'incendio di Roma, sono sempre di più oramai gli studiosi, anzi quasi tutti che stanno rivalutando la figura di Nerone in positivo, un Nerone che in realtà è amico del popolo molto vicino al popolo, contrario, citando ecco per l'appunto anche il professor Barbero, contrario alla confindustria del tempo, cioè l'ordine senatorio, i nobili, gli aristocratici, gli stessi aristocratici che dopo la morte di Nerone attraverso i loro intellettuali hanno voluto dipingerlo quasi in maniera macchiettistica, in maniera del tutto negativa e da qui poi i cristiani ne hanno tratto ovviamente profitto. E quindi ci poniamo anche la stessa domanda fatta nel video dell'incendio di Roma, cioè se quindi Nerone è da scagionare perché per l'appunto adesso lo si sta rivalutando, anche riferimento all'incendio, rivalutando positivamente ovviamente, allora chi è che davvero ha piccato il fuoco a Roma e ci siamo dati in quel video una risposta, forse una frangia molto radicale di cristiani. Ma in riferimento a questo, ovviamente quel video vi invito a recuperarlo, in riferimento a questo ecco sempre di più gli studiosi dicono che non c'è stata alcuna persecuzione ai danni dei cristiani durante il periodo neroniano. E se facciamo poi un salto di poco più di vent'anni e quindi arriviamo poi al tempo di Domiziano e anche per Domiziano la tradizione cristiana rivendica una persecuzione ai suoi danni. E cioè, basti pensare per esempio all'autore del Vangelo di Giovanni, autore anche dell'Apocalisse, che secondo tradizione cristiana è stato mandato in esilio verso l'isola di Patmos proprio a causa di questa persecuzione ai tempi di Domiziano. Quindi non dimentichiamo sia il dato neroniano sia il dato di Domiziano perché poi dobbiamo giungere agli inizi del secondo secolo. Siamo quindi tra il 111 e il 112 d.C. con l'imperatore Traiano e quindi con la famosa lettera di Plinio a Traiano. Un Plinio che è governatore della Bitinia proprio in quei tempi, quindi certamente non un politico di primo pelo ma che ben conosce la legislazione romana, ma che allo stesso tempo denuncia il fatto che molti cristiani stanno arrivando presso la sua procura e che sono stati per l'appunto denunciati e accusati di determinati delitti, quindi di determinate colpe dal punto di vista penale. Ma in questa lettera veniamo a sapere che il nostro Plinio non sa esattamente quello che deve fare, nel senso che si trova quasi ignorante di una legislazione che possa in qualche modo recepire questa questione dei cristiani. E quindi questo è un primo dato interessante perché Plinio si rivolge proprio all'imperatore Traiano dicendo ma come devo comportarmi con i cristiani che stanno arrivando? Con cristiani che sono tali addirittura da 10, anche 20 anni. Che cosa devo fare? Quindi sembra che Plinio non conosca assolutamente alcuna legislazione ad hoc nei confronti dei cristiani e quindi questo va a cozzare con il dato tradizionale secondo cui ai tempi di Nerone, ai tempi di Domiziano i cristiani erano quindi perseguitati anche da un punto di vista puramente legislativo. Ed è sorprendente anche la risposta di Traiano il quale dice guarda attienite alle nostre leggi, attienite a quello che è il nostro diritto romano e anzi addirittura non dar conto di tutte quelle denunce anonime e danni dei cristiani. Perché? Perché dobbiamo rimanere retti di fronte ai cittadini. Quindi abbiamo anche un incredibile garantismo da parte dell'imperatore Traiano e quindi questo va a cozzare comunque con quello che è il dato tradizionale secondo cui i cristiani sono sempre stati perseguitati. Quindi questo è anche molto interessante. E in riferimento proprio alla persecuzione, io come sempre cito questo libro che è quello di Marco Zambon, Nessun Dio è mai sceso qua giù. Marco Zambon, giusto ricordarlo, è un ricercatore di storia del cristianesimo e delle chiese nel Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche dell'Antichità dell'Università di Padova, dove insegna storia del cristianesimo antico e medievale e storia delle dottrine teologiche. Un libro certamente molto importante proprio a livello proprio di tomo, ma comunque molto semplice da leggere, molto interessante, che va proprio a dipanare la questione delle persecuzioni cristiane. Scrive per l'appunto Marco Zambon nel suo libro intanto che, pur con caratteristiche ed efficacia diversa, tutti e tre gli imperatori che emanarono editti di persecuzione agirono nei confronti dei cristiani mossi dall'esigenza di aumentare l'unità interna dell'impero, promuovendo il comune esercizio del culto degli dèi tradizionali da parte di tutti i cittadini. Il forte impegno militare richiesto per la difesa dello Stato e il parallelo sforzo fatto dagli imperatori per rinsaldare la solidarietà religiosa e la lealtà politica degli abitanti dell'impero posono in modo acuto ai cristiani il problema dell'atteggiamento da assumere nei confronti dei propri doveri di cittadini romani. Ed è una cosa che dico anche, per esempio, nel mio ultimo libro Parole ai cristiani, che come sempre vi invito ad acquistare se non l'avete già fatto. E c'è che era un problema per i cristiani essere, per l'appunto, buoni cristiani e allo stesso tempo buoni cittadini romani. Ed è un problema a cui gli stessi romani, gli stessi intellettuali, pagani, gli stessi imperatori dovevano far fronte perché stava creando una spaccatura in seno a quella società romana. E parlando proprio di Decio, quindi il primo di questi tre imperatori, Decio promosse un programma di difesa militare e di restaurazione culturale e religiosa che includeva, tra le altre, una misura non mirata in modo esplicito contro i cristiani, ma che causò una prima grave crisi all'interno delle chiese. Quindi Decio non agisce direttamente contro i cristiani, ci dice l'autore Marco Zambon. Ed è significativo a questo proposito che l'editto di Decio non prescrivesse a quali divinità si dovesse rendere culto, ma prescrivesse il modo in cui il culto doveva essere reso, mediante l'offerta di un sacrificio, d'incenso o di libazioni. Così si consacravano in maniera vincolante per tutti i cittadini non determinati dei, ma determinate pratiche culturali della tradizione. Quindi quello che è interessante intanto notare è che per Decio, quindi non c'è una persecuzione ai danni dei cristiani, certamente per i cristiani che volevano essere tali era un problema, ma Decio non ha creato una persecuzione ad hoc nei loro confronti. Decio diceva potete garantire il culto a chiunque, quindi è estremamente garantista, quindi potete tributare il culto a chi volete. L'importante è che però lo facciate all'interno della nostra sfera tradizionale, perché la tradizione è importante per Roma. Quella tradizione è legata anche molto alla Pax Theorum, cioè la pacificazione con gli dèi, a quel contratto che i romani avevano con gli dèi e che ha reso effettivamente Roma grande. Ma passando da Decio a Valeriano, scrive sempre il nostro Marco Zambon, che è verosimile che anche nel caso di Valeriano siano state le difficili circostanze esterne a indurre l'imperatore a reprimere i perturbatori della Pax Theorum. E per la prima volta le misure prese riguardarono in modo esplicito ed esclusivo i cristiani, però vediamo in che modo. Le misure persecutorie stabilite da Valeriano indicano con chiarezza la volontà non di sopprimere fisicamente i cristiani o di proibire il culto privato al loro Dio, ma di decapitarne l'organizzazione colpendo i capi delle comunità, i laici in vista e le proprietà delle chiese. Il che dà anche la misura di come le autorità romane fossero bene a conoscenza della loro struttura. Quindi qua sembra esserci più che altro un attacco sistematico all'istituzione stessa e alla chiesa che si stava creando all'interno di quell'impero romano. Quindi non è una misura ad hoc ai danni dei singoli cristiani che possono tributare tranquillamente il culto al loro Dio, ma all'istituzione e qual è il motivo? Tra poco ci arriveremo. La preoccupazione di Valeriano, come già di Decio, era di ripristinare il culto corretto dovuto agli dei tradizionali. Quelli che sono tali, secondo natura, che preservano l'impero e sono da tutti conosciuti. Quindi anche qua sembra esserci più che altro una salvaguardia in sé dello Stato. E per ultimo poi arriviamo a Diocleziano ed è sempre Marco Zambon che scrive troviamo nel re scritto di Diocleziano tutti i principali temi della polemica tradizionalista contro le superstizioni che abbiamo già incontrato. La superstizione insegnata per esempio dai manichei ma anche dai cristiani, viene descritta come una forma di religiosità sconveniente e viziosa che eccede i limiti della natura umana e tende a diffondersi come un pericoloso contagio. Essa è collegata a pratiche nuove, inconsuete e straniere, che minacciano l'ordine tradizionale e la pace dell'impero. Qui sembra che anche qua l'imperatore si stia muovendo non perché ha in odio i cristiani, ma perché deve salvaguardare l'impero. E per quale motivo? E adesso lo capiamo ancora meglio. Nel 303 la persecuzione contro i cristiani prese avvio in modo sistematico. Un primeditto del 23 febbraio ordinava la chiusura dei luoghi di culto e la confisca delle proprietà delle chiese. Il divieto di riunione e l'obbligo di consegnare i libri sacri perché fossero distrutti. I cristiani di ceto elevato erano privati dei privilegi loro accordati dal diritto ed erano inoltre vietati ai cristiani ricorrere ai tribunali. Quindi sembra quasi che ci sia effettivamente una prima vera persecuzione ai danni dei cristiani in maniera concreta, terribile. Ma ancora qui, per quale motivo Diocleziano si sta effettivamente muovendo in questo modo? Ai cristiani, attenzione, erano rimproverati il tradimento nei confronti dei propri padri. È la scelta arbitraria di istituire per sé stessi leggi nuove che violavano i confini etnici, entro i quali soltanto un culto particolare poteva avere senso e legittimità. Quindi si sta affermando un concetto pericolosissimo per i romani. Cioè l'interno dell'impero sta creando uno stato all'interno di un altro stato. E quindi ora si comprende quello che ha fatto Valeriano, cioè attaccare sistematicamente l'istituzione e Diocleziano attaccare l'istituzione in quanto i cristiani stavano facendo delle loro leggi per sé stessi, contrarie alle leggi di Roma. Voi immaginate oggi in Italia se dovesse esserci uno stato all'interno di un altro stato. Cittadini che promuovono leggi solo per sé stessi andando contro per esempio quella che è la Costituzione, quello che è il diritto parlamentare, la democrazia stessa parlamentare. Sarebbe ovviamente una crisi, una crisi terribile da risolvere subito. Quindi non stiamo parlando di una persecuzione ai danni dei cristiani solo perché sono cristiani, ma perché erano un problema di ordine pubblico. Tant'è, e ne ho verso la conclusione, che la ragione principale delle misure anticristiane fosse la cura per la salvezza dello Stato. Ed è testimoniato fin dal tempo di Marco Aurelio, quindi tutto quello che ci dice la tradizione cristiana che c'è sempre stata questa persecuzione perché gli imperatori volevano soltanto salvaguardare il loro stato, il loro impero. E quella che fu la più grave, la più lunga ondata persecutoria contro le chiese cristiane è dunque spiegata anche nell'editto di Galerio, come un tentativo compiuto dall'alto per riportare i cristiani all'osservanza del Mos Maiorum, restaurando nell'impero un ordine fondato sulla disciplina romanorum, che implicava l'osservanza da parte di tutti i cittadini delle medesime leggi e la condivisione del culto dovuto agli dei tradizionali. Questa finalità di rafforzamento dell'identità collettiva sul piano sociale e culturale permette anche di capire come mai la persecuzione sia stata avviata da Deocleziano solo dopo vent'anni il suo impero. Soltanto dopo aver consolidato l'impero dal punto di vista militare e istituzionale, egli poteva intraprendere anche un'azione di restaurazione religiosa che tentava di emarginare dallo Stato i portatori di superstizioni straniere, manichei e cristiani. Quindi alquanto chiaro per il quale motivo gli imperatori sono mossi in questo modo, per salvaguardare il loro impero, le loro tradizioni, le loro istituzioni, quelle tradizioni che hanno reso Roma grande. Quindi era un modo per autotutelarsi contro quelli che stavano minacciando l'ordine pubblico, i cristiani che stavano creando uno Stato all'interno dello Stato. E quindi per ultimo, per quale motivo allora è necessario e importante per i cristiani, anzi per la tradizione cristiana, rivendicare questa lunga storia fatta di presunte persecuzioni? E ce lo spiega per esempio Piero Flecchia che ha curato questo piccolo volume che ben conoscete per chi ha visto il video sull'incendio di Roma, scritto da Carlo Pascal e sull'appunto l'incendio di Roma forse creato ad hoc dai cristiani. E Piero Flecchia, proprio nella domanda, che la ripeto ancora, per quale motivo è importante per i cristiani rivendicare questa lunga scia di persecuzioni? Ecco Piero Flecchia scrive, al centro della vittoria del cristianesimo c'è il grande mito delle ferate persecuzioni del potere imperiale contro la Chiesa del Cristo che trionfa in ragione del sangue temmartiri e la prima grande persecuzione è quella scatenata dal folle sanguinario Nerone. Quindi ancora di più si capisce per quale motivo i cristiani hanno avuto necessità di creare questo grande mito delle persecuzioni. Questo grande mito delle persecuzioni che è stato anche fondativo di quella loro vittoria che è stata decisiva poi per il cristianesimo come unica religione di Stato, che dopo l'editto di Tessalonica, giusto ricordarlo, dopo l'editto di Tessalonica quel cristianesimo come unica religione di Stato è stato poi motivo di persecuzione e danni non solo dei pagani ma di altri cristiani. Ma questa è un'altra storia e in gran parte questo la racconto anche nel mio ultimo libro Parole Cristiani. Quindi voglio chiudere qua con le considerazioni fatte oggi, anzi grazie per avermi ascoltato fino a questo punto, spero di non avervi annoiato. Come sempre vi ricordo i vari link di riferimento qui sotto in descrizione sia per le pagine social e sia per quanto riguarda invece i miei libri che trovate su Amazon, quindi Paolo di Tarsel, l'invenzione del cristianesimo e parole cristiani e come sempre io vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima chiacchierate insieme. Ciao a tutti e ancora grazie.